Oggi parliamo di una relazione abbastanza intuitiva, il dialogo tra controllo e paura. E' abbastanza evidente riconoscere la lunga mano della paura dietro al controllo. Anche se pensiamo al self-control degli inglesi oppure alla famosa pubblicità della Pirelli di un tempo. La forza è nulla senza il controllo. Un certo pensiero della nostra società mette l'accento sul controllo e lo valorizza come un valore. Peccato che andrebbe distinto. C'è un controllo dell'io che nasce appunto dalla paura. Pensa se stai camminando su un sentire in montagna e ti guardi a destra a sinistra e ti inrigidisci, trattieni il respiro, cammini in modo circostanziato, attento, guardando dall'altra parte. Oppure pensa quante volte controlli le tue emozioni per paura di mostrarle, controlli la tua fragilità per paura che venga a vista e così via. Il controllo è figlio diretto della paura. Noi vediamo il controllo e teniamo nascosta la paura che c'è dietro. Se noi ci accorgessimo della vera natura del controllo comprenderemo che in realtà quanto più controlliamo, quanto più nutriamo la paura che ci sta dietro, la paura che qualche cosa dal profondo affiori, la paura che vediamo degli aspetti di noi che non ci piacciono, la paura ancora una volta che venga fuori, andiamo giù lungo la scala, che venga fuori la rabbia, che venga fuori il dolore, che venga fuori la minaccia alla sopravvivenza. Ancora una volta c'è una stratificazione di emozioni spiacevoli nutrite tutte dalla signora, oscura signora della paura, a nutrire e gestire il controllo, che però viene travisato, diventa un segno di valore, quello di potersi controllare, di controllare le emozioni, di gestire i propri comportamenti. Se noi non ci accorgiamo, uno, che il controllo è figlio della paura, due, che esistono, almeno che esiste un altro tipo di controllo, che è il controllo figlio della fiducia, che è il controllo del sé, allora potremmo accorgerci della libertà che c'è oltre il controllo, della libertà che c'è nella fiducia. E il termine controllo si diluisce un po' e diventa padronanza, diventa consapevolezza, diventa attenzione, diventa intento. dal momento che il controllo è già insito nella fiducia, è già insito nel sé, il nostro organismo, nella sua complessità, è in grado di produrre ordine e di agire secondo un ordine interno. E' questo ordine interno che produce il controllo, tra virgolette. Il programma, il progetto, il seme che siamo, il sé che siamo, è già un principio ordinatore di per sé, quindi che tra virgolette controlla, cioè che indirizza la nostra energia, le nostre emozioni, i nostri pensieri, i nostri aneliti spirituali verso la sua piena realizzazione. Ma non sarà mai attraverso il controllo che noi realizzeremo noi stessi. Attraverso il controllo noi al massimo saremo schiavi della paura e riusciremo a agire secondo quanto la paura detta alla nostra vita, quindi agiremo in un ambito estremamente limitato, distretto. E avremo ovviamente paura di tutto ciò che vuole destabilizzare e quindi saremo attaccati a dogmi, a credenza, a condizionamenti, a tutto ciò che ci fa stare nella nostra zona di comfort. E crediamo che questa sia la vita. Se apriamo un attimo lo sguardo, cogliamo la vera natura del controllo, ci accroggiamo dalla paura che sta sotto e abbiamo il coraggio di mettere la testa fuori dalla paura. Ecco che troviamo la fiducia, ecco che troviamo la spinta del nostro codice interno che organizza e controlla in senso buono, cioè dirige le nostre azioni verso la nostra piena realizzazione.